Ciao amici Men Wow! Benvenuti! Sono appena rientrato a casa, sono passato dalla mia pescheria di fiducia, tra virgolette, anzi meglio dire dalla gioelleria di fiducia e abbiamo acquistato, guardate un po', due bei tranci di filetto di salmone. Li pesiamo subito, vediamo di cosa stiamo parlando. Abbiamo ben 400 grammi di filetto di salmone, benissimo. Abbiamo già preparato quella che è l'acqua che sta bollendo, lo so magari starete storcendo il naso perché è meglio cucinarli al forno, è meglio cucinarli in un'altra maniera, però diciamo che oggi era la mia unica alternativa per cucinarli nel modo più sano possibile, non mi andava di prendere e di accendere il forno. Bene, allora li inseriamo, inseriamo questi bei filettoni, come potete vedere, di salmone, nell'acqua bollente! Uh! Everything is fine! Il bello della diretta! Guardate che meraviglia di filetto di salmone, tutta salute! Lo inseriamo qui dentro, facciamo bollire un po' quello che è il filetto di salmone. Dopodiché mangeremo le nostre solite mandorle e poi aggiungiamo una porzione di avocado che ho già avuto modo di assaggiare, come vedete, ma è davvero buono. Maturo al punto giusto. E infine, tutti gli integratori di cui già avevo parlato nel video. E quindi cosa abbiamo? Vitamina C, gruppo B, complesso di multiminerali e alcune vitamine. Vitamina D3, vitamina E, acido alfa lipoico, la mitica curcuma, zenzero e pepe nero per migliorare la biodisponibilità nell'asseminazione degli integratori. Integratori di maca e arginina. E per concludere, last but not least, Omega 3 liquidi. E così sarete pronti a spaccare anche oggi in palestra e a nutrirvi solo del meglio. Un abbraccio amici di Menuao, a presto! Un abbraccio amici di Menuao, a presto!